mancano medici in italia e in veneto la notizia che alcuni concorsi sono andati addirittura a deserti questo mentre decine di migliaia di studenti italiani ogni anno provano a entrare nelle facoltà di medicina e senza riuscirci ricordiamo che tra i quattro quinti e cinque sesti e seconda degli anni rimangono fuori come siamo arrivati a questo punto abbiamo invitato a parlare paolo gubitta che economista di impresa per un altro punto di vista su questa situazione che molto discusa a livello nazionale e anche locale paolo gubitta appunto si occupa di risorse umane ed è direttore dell'osservatorio delle professioni digitali dell'università di palova buongiorno buongiorno lei grazie per l'invita dunque la domanda è come siamo arrivati a questa situazione la carenza di personale quindi la mancanza di figure idonee capaci di occupare le posizioni vacanti come si dice e può nascer da due ragioni fondamentalmente la prima è uno shock improvviso ad esempio una tecnologia che cambia così rapidamente da non dare il tempo al capitale umano le aziende al sistema formativo di preparare le competenze giuste di preparare le persone con il portafoglio di competenze che servono in quel contesto non è questo il caso del dell'ambito medico e la carenza di medici nel sistema sanitario italiano è evidentemente il frutto di un errore di programmazione del personale quando si parla di gestione delle risorse umane una delle politiche o delle pratiche di gestione chiave è la programmazione del personale che fondamentalmente vuol dire questo prendere i collaboratori che si hanno oggi proiettare la loro dinamica dell'età la dinamica demografica che è relativamente semplice perché sono gli anni che mancano per raggiungere la maturità piuttosto che che la pensione con innessi e connessi legati alle competenze alla formazione alla crescita professionale dall'altra si devono considerare le uscite quindi il turnover sia legato al completamente dal ciclo di vita professionale sia un turnover legato al fatto che la gente preferisce andare da un'altra parte mettendo insieme questi due flussi aggiungendoci le politiche di assunzione da parte dell'organizzazione e meccando il tutto bilanciando il tutto con gli obiettivi strategici si definisce il fa bisogno di personale e si attivano per tempo le politiche di reclutamento di selezione di inserimento adeguate per evitare che l'organizzazione rimanga priva delle risorse di cui strategicamente ha dichiarato di aver bisogno nel caso specifico quando parliamo di medici quando parliamo di sistema sanitario siamo di fronte a variabili che non subiscono shock esterni la demografia non è scioccante è scioccante il dato sulla demografia in italia o in veneto oggi ma le dinamiche demografiche sono lente ne consegue che c'era tutto il tempo in astratto per definire i fabbisogni e operare in maniera tale da fare in modo che i bandi se è vero quello che dicono le cronache ma immagino proprio di sì che i bandi per alcune specialità mediche nel nostro nella nostra regione sono andate deserte oppure non hanno attirato un numero di candidati sufficienti a coprire le posizioni proposte e perché non è stato fatto allora fallita la politica del numero chiuso vanno distinti due piani dal mio punto di vista un piano è il piano organizzativo aziendale e quindi la capacità e la volontà di un'organizzazione di definire il proprio fabbisogno di stimare i flussi interni di definire i gap e di avviare le politiche di reclutamento è un problema tecnico è un problema tecnico l'altro un problema politico politico di sistema formativo intendo di sistema universitario se è vero e questo l'ha detto l'ha ribadito anche il nostro magnifico rettore in un'intervista recentemente che in italia fatte cento le matricole che entrano a medicina solo per sette su dieci c'è un posto in specialità due sono le considerazioni da fare uno o è stata fatta una stima fatta bene che ci dice che ogni cento persone 30 decidono di fare o i medici di base o decidono di andare via o si sentono preparati poi e scelgono un'altra strada se è questa la la motivazione del fatto che ci sono 70 posti in specialità ogni 100 iscritti beh allora vuol dire che bisogna aumentare il numero di matricole se invece come suggerisce il rettore di padova il collo di bottiglia sta nelle scuole di specialità ovvero ti seleziona l'ingresso lascio fuori all'ingresso di medicina un numero importante di di persone e quelle che prendo a quelle che prendo non garantisco un posto di specialità questo vuol dire non rispettare un basilare patto formativo con gli studenti con le famiglie e con la società allora se è vero questo e questo mi sembra da da quello che si sente insomma che il nocciolo che il collo di bottiglia sia sia questo dal punto di vista delle azioni da prendere domani penso che finanziare immediatamente aprire i cordoni della borsa sulle scuole di specialità sia una decisione non demagogica non demagogica che da effetti immediati perché permetterebbe a tutta una che stanno aspettando di andare subito di tornare subito nel sistema e di impiegare con una certa immediatezza e queste persone poi in corsia per supportare o per sopperire alcune lacune contemporaneamente penso che sarebbe corretto dal punto di vista non solo politico ma anche etico chiedere scusa a tutte quelle persone che in passato il patto formativo che avevano idealmente sottoscritto con la società o con il sistema non è stato rispettato non per corpa loro certo quindi c'è un discorso di capacità aziendale che è mancata evidentemente anche di previsione e c'è anche un discorso politico ecco ma questo lo chiedo all'economista se è mancata questa capacità di pianificazione perché non lasciar fare al mercato e togliere il numero chiuso questa è una critica e che ha trovato appoggio anche in diverse parti politiche certo e togliere d'amblè il numero chiuso per una ragione contingente è come fare un condono fiscale diseduca e allora se il chi propone di togliere il numero programmato numero chiuso che dir si voglia lo fa per una ragione ideologica cioè perché ideologica nel senso che perché pensa che l'accesso non possa essere limitato e si fa carico di garantire l'organizzazione poi dei dei processi didattici ben venga e se ne assuma la responsabilità se invece è una decisione contingente io penso e quali ricito il rettore di di padova che sia opportuno che l'aumento del numero di di matricole sia combinato sia messo in relazione ai reali fabbisogni ma aumentare le matricole oggi vuol dire avere medici fra dieci anni non domani quindi è una decisione che non risolve il problema il problema odierno noi il problema ce l'abbiamo adesso e però sicuramente per alcuni per alcuni anni quindi per questo insisto sul fatto che sia preferibile finanziare le scuole di specialità dotandole eventualmente anche delle risorse per fare gli investimenti necessari circola un'altra ipotesi per sempre contingente per risolvere il problema domani che è quella di incentivare i medici che stanno completando il ciclo di vita professionale a non cogliere l'opportunità di quota 100 o più in generale a posticipare la la pensione perché si rischia un esono anche questo esattamente ecco tra il finanziare le persone che stanno completando il ciclo di vita professionale per posticipare la pensione e aumentare il numero di borse o comunque di risorse per le specialità io penso che una società evoluta e lungimirante non abbia reale scelta deve scegliere la seconda la prima scelta io penso che non sia coerente con quello che ci meritiamo e soprattutto non lanci dei messaggi dei messaggi importanti oppure in parallelo bisognerebbe spiegare a chi è fuori dalle scuole di specialità è rimasto fuori dalle scuole di specialità la ragione per la quale sia più importante o più giusto per la società per la nostra salute puntare su chi sta completando il ciclo di vita professionale invece di puntare su chi dopo sei anni di studio dopo aver completato gli studi si è trovato d'emblè senza un posto quindi io non avrei dubbi potendo potendo decidere poi è evidente che ci sono vie di mezzo comunque ci sono delle situazioni contingenti magari su specifiche aree che spiegano che giustificano il dare risorse in una direzione piuttosto che che in un'altra però secondo me dovrebbero essere situazioni particolari non generali le chiedo una battuta anche su un aspetto che le accennato quello di tanti medici che sono attratti all'estero ecco noi come sistema spendiamo decine forse centinaia di migliaia di euro per formare un medico specializzato cosa fare in questi casi è lecito un protezionismo chiedere indietro qualcosa oppure queste dinamiche sono perfettamente normali ma ci sono società di consulenza o comunque aziende in generale che dicono che fanno un patto con i loro collaboratori e tu lavori con me io ti pago anche la formazione post universitaria nelle top school nel mondo te la pago però resti con me un tot di tempo dopo aver completato questo percorso ecco per le cose che abbiamo detto prima noi non siamo in questa situazione perché un sistema che dice a 100 persone di entrare e dopo sei anni con una formazione che non è propriamente spendibile in tutti i mercati perché è specialistica solo a 70 da l'opportunità di fare la specialità direi che in generale non può permettersi di fare un ragionamento di questo tipo resta il fatto che il nostro che i nostri laureati o i nostri medici sono appetibili qui suggerirei di vedere il bicchiere mezzo pieno è che è che sono bravi ecco eventualmente dovremmo farci delle domande in appunto nelle pratiche di gestione delle risorse umane si suggerisce che quando una persona va via bisognerebbe fare l'intervista di uscita e quindi un intervista un interview un colloquio finalizzato a farsi dire possibilmente con verità le ragioni per le quali una persona va via allora uno può dirti per ragioni retributive oppure per ragioni organizzative oppure perché dopo vent'anni passati in un posto mi sembra ragionevole provare un'altra cosa perché qui non vedo prospettive di carriera ecco tutte queste queste interviste questi colloqui se opportunamente poi utilizzati possono aiutare a fare politiche di gestione che riducano il turnover negativo non voluto perché in alcuni casi il turnover negativo ovvero l'uscita volontaria delle persone dall'organizzazione e anche diciamo da flessibilità all'organizzazione ecco se vanno via le persone sulle quali l'impresa l'organizzazione non sta puntando se vanno via le persone sulle quali tu giochi il tuo piano strategico è un bel problema questo in generale e in tutti i sistemi dove tutto ciò si sta si sta verificando quindi se posso riassumere aumento dei posti soprattutto nelle scuole di specialità subito nelle scuole di subito che coincidano più o meno con le persone i medici in uscita laureate diciamo ad esempio e incentivare la permanenza dei medici che ancora pur avendo raggiunto la quota 100 diciamo una recente riforma possono fermarsi insomma questi incentivi con molta moderazione e diciamo potrei dire ad persona non in generale perché drenerebbe risorse alle alle scuole di specialità questo è un problema ecco e soprattutto una migliore gestione e previsione ce la faremo secondo lei stavolta io penso di sì io penso di sì perché penso che le competenze nel nostro sistema ci ci siano dentro le organizzazioni sanitarie ci sono fior di professionisti in ambito medico in ambito manageriale e in ambito gestione delle risorse umane qui probabilmente quello che si sta verificando paghiamo un modello di gestione di qualche decennio fa che oggi si sta scontrando con un mercato del lavoro anche medico nell'ambito sanitario e quindi il bilanciamento pubblico privato che rende il privato più appealing e i medici capaci competenti e che hanno mercato esterno come si dice no è ragionevole che siano attratti dalle offerte del sistema che magari garantisce lo stesso servizio però con condizioni organizzative condizioni organizzative più 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 coerenti con il mestiere di medico mi permetto di fare un ultimo paragone parlando sempre bene del mio ateneo il mio ateneo per attirare gli scienziati brillanti dall'esterno l'università di padova l'università di padova ovviamente e non mette a disposizione sullo stipendio mette a disposizione dei pacchetti di risorse per iniziare a lavorare bene in un ambiente nuovo in modo tale che tu non debba perdere il tempo per creare le relazioni e avere le risorse dentro il nuovo il nuovo ateneo allora questo è una soluzione di natura organizzativa che rende nel caso specifico l'ateneo il mio ateneo più attrattivo ecco soluzioni di questo tipo così come eventualmente favorire la mobilità tra ospedali nel nostro nel nostro territorio quindi tu hai uno specialista che opera in più ospedali e mette a disposizione la sua professionalità dove dove serve dentro un sistema un sistema che è che appartiene diciamo alla stessa proprietà o che è sotto la stessa regia ecco quindi agirei sull'organizzazione e non solo sul pacchetto retributivo monetario in sé perché lì avremo sempre perso e ci sarebbe sempre l'alibi che le risorse non sono sufficienti le persone lavorano anche per denaro ma non solo per denaro e l'economia si occupa anche di questo esattamente quindi prendersi cura delle persone e delle professionalità ringraziamo professor paolo gubitta che ci ha fatto vedere l'amministrazione della sintetica in un modo diverso che quello della cura e della gestione delle risorse umane noi vi diamo appuntamento con i prossimi approfondimenti del bo live